Secondo la stima preliminare dell'Istat, nel secondo trimestre il PIL italiano ha registrato una variazione congiunturale nulla a sintesi di una diminuzione del valore aggiunto dell'industria e di un contenuto incremento in quello dei servizi. A giugno l'indice del stagionalizzato della produzione industriale, secondo l'ampio incremento di maggio, si è ridotto marginalmente in termini congiunturali. L'Istituto spiega, l'indicatore anticipatore ha interrotto la tendenza alla flessione in atto dalla fine dello scorso anno, prospettando uno scenario di lieve miglioramento dei livelli produttivi. Acea ha perfezionato un accordo con la società Eneracque per l'acquisizione del 60% del capitale dal detenuto nella Berghe. La società, con sede nell'area industriale di Frosinone, è attiva nel trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi. La Eneracque rimarrà come socio di minoranza e parteciperà alla gestione operativa della società. Secondo la FIAIP, in un contesto nuovamente imprevedibile, il mercato immobiliare italiano vede un aumento del numero delle compravendite anche nel primo semestre del 2019. In tutta Europa, nel corso degli ultimi quattro anni, i prezzi dell'abitazione hanno continuato a salire a ritmi sostenuti, registrando aumenti consistenti, mentre l'Italia è l'unico paese europeo in cui si registra un callo dei prezzi per l'ottavo anno consecutivo. Nel primo semestre, Sace Simes, gruppo CDP, ha mobilitato a sostegno delle imprese italiane risorse pari a 8 miliardi, di cui 4,1 miliardi per le PMI, con una crescita dell'8%. Il primo semestre del 2019 si è chiuso con una performance positiva, con premi lordi e utile netto in aumento, pari rispettivamente a 338 milioni, più 31%, e 127 milioni, più 5%. Più fermate collegamenti, maggiori servizi di assistenza per le persone e nuove soluzioni intermodali. FS rilancia la stazione milanese di Rogoredo con una serie di iniziative per assicurare un'offerta ferroviaria efficace, capillare, conveniente e sostenibile anche durante i tre mesi di chiusura dell'aeroporto di Milano Linate. I collegamenti con le frecce di Trenitalia dalle principali stazioni di Milano con Roma sono in totale 104.